Ultimo giro di consultazioni per Mario Draghi, oggi i partiti più grandi, sanità, lavoro, imprese, scuole e ambiente, i punti del suo programma. PD e Italia Viva ribadiranno il sì al premier incaricato, i 5 stelle aspettano il voto sul russo, Berlusconi a Roma sarà alle consultazioni. E' morto a 87 anni Franco Marini, sindacalista, leader della CISL, fu presidente del Senato, Mattarella esempio di impegno politico e onestà. Allarme in Umbria per i contagi, ospedali in difficoltà, al via le vaccinazioni per gli over 80, esperti OMS a Wuhan, confermata origine animale del virus. Giornata mondiale per la sicurezza su internet, con la pandemia un ragazzo su 5 è sempre connesso, aumentati i casi di cyberbullismo. Buongiorno dal TG2, in primo piano le consultazioni della premier incaricato Draghi, che lavora alla squadra e al programma di governo. lotta alla pandemia, europeismo e ambientalismo, la cornice all'interno della quale Draghi intende.